buongiorno allora mi è arrivato l'ordine di campagna 8 e mi mostro i prodotti allora avevi il cartaccio intanto avevo le anteprime il tutto per me cataloghi di campagna 10 i primi là in fondo e 11 qua e poi altre offerte incentivi così insomma la mia bolla e adesso passo a farvi vedere scusate la mano scusate la mano allora allora intanto ho preso questo che è il bubble butt è un litro e warm vaniglia e fico questa viene offerta quindi me lo sono presa poi mi hanno ordinato allora passiamo alle cose allora tre di questi che sono gli asciugasmalto sono stracomodi infatti uno è in offerta e quindi tre di questi poi mi hanno ordinato avon care lozione con aloe vera mani unghie cuticole 100 ml poi mi hanno ordinato avon glow terra bronzante poi allora e tinta labbra il matitone tinta labbra nella colorazione coral poi matita contorna labbra nella colorazione coral desire desire poi rossetto 3d plumping plam plumping nel colore uptown pink che è praticamente questo oscuro e poi un avon tv color nella colorazione porsche qualcosa non capisco comunque questa qua poi di color talent invece poppy love e sempre di color trend lip gloss nella colorazione della sono l'età kiss kiss ok poi allora e poi l'accessorio magico per capelli che è questo che è praticamente questo questo qua ok poi speriamo di farcela perché ho poco spazio e come sempre del resto allora ho comprato mi sono presa della per avevo un nastrino solidarietà questo tris di ovecchini la perlina con il brillantino e con il nastrino sono a lobo poi mi sono presa allora vediamo camisevano gli aperti ecco camisevano ce l'ho fatta ce l'ho fatta mamma come sono piccoli dio santo allora questi povicini che sarebbero per la nail art ma ovviamente ovviamente no e io li uso per il film questa boccettino tanto che viene la boccettina e poi ecco e poi questo che mannaggia lo so che ci sono sulle misure però sembrava no vabbè non è piccolo dai quadrato questo porta tutto ma è che va c'è solo il portabolo non lo so se porto oggetti questo ma no ma c'è una bandino io ne ho altre ma sono quadrati questo ha quattro taschine esterne e oddio sembra comodo a vederlo va bene nulla e basta a posto allora l'ordineva questo io ho poco spazio quindi così ci vediamo in un prossimo video e se riesco faccio l'anteprima di campagna 10 perché poi per la 11 c'è tempo e nulla vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao